gentili telespettatori buona giornata rassegna stampa di oggi domenica 17 aprile 2022 partiamo con il corriere della sera intervista con draghi il premier dai partiti prova di coesione non sono stanco il futuro non intendo candidarmi se uniti avanti fino in fondo giusto mandare le armi all'ucraina la pace vale sacrifici ma per gli italiani saranno limitati e qui vediamo la foto di giannelli dove si vede il vatico la cupola di san pietro una colomba bianca è un cielo oscuro plumbeo gotico per quello che sta succedendo e ho visto l'ultima domanda di un'intervista fatta al pontefice massimo papa francesco e sono rimasto veramente colpito da da quest'ultima parte dell'intervista dove l'intervistatrice ha fatto una domanda dice sono le tre di notte che cosa cosa significano oggi le tre di notte le tre di notte sono la resurrezione di cristo e il papa è stato 40 secondi con uno sguardo che mi ha che veramente mi ha lasciato mi ha lasciato un segno direi ma andiamo avanti in preghiera tra macerie fosse comuni le lemosiniere del papa macron punta ai voti di sinistra svolta ecologica e poi vediamo il mondo diviso su putin verità sgradevoli e la resistenza disperata di mariupol così intanto l'italia riapre anche l'ambasciata e vediamo mosca vietata johnson mosca vieta vieta l'ingresso al premier della gran bretagna ma non credo che johnson era così interessato ad andarsi a fare un giro in russia e poi vediamo quelle tasse sempre pagate ma dagli altri è interessante questo titolo le tasse devono essere sempre pagate i moralisti italiani sì ma dagli altri ovviamente e poi vediamo andiamo a vedere la repubblica che titola guerra non guerra e pace ma guerra e fame il cremlino scrive alla farnesina conseguenze per le armi a chiev e poi andiamo a vedere la stampa la stampa che titola pasqua di sangue se rimane solo il papa a sperare nella pace e poi andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere il fatto quotidiano andiamo a vedere ecco qua il fatto quotidiano kiev tornano i missili tornano i missili e tante piccole buccia bomba vite e destino reportage dal fronte poi vediamo web e guerra conte è primo salvini letta flop il gradimento leader giudicati dai social guerra per procura il time addestratori dei inglesi per le truppe di kiev i soldati degli stati uniti inglesi sono già in ucraina e stanno addestrando il il personale militare ucraino per utilizzare i mezzi che sono in arrivo oltre 300 mezzi corazzati inviati dagli stati uniti l'italia si sta prestando a mandare mezzi militari con un decreto segreto dove c'è l'invio anche anche per l'italia di mezzi corazzati lince e lancia missili terra aria e poi vediamo non bastavano i russi due reporter francesi ci siamo finti volontari a leopoli ci ha accolti un comandante yankee e poi ecco le impronte digitali americane testate atomiche armi bio mercenari e cyber guerriglieri e vediamo che vediamo che questo giornale il fatto quotidiano di travaglio fa parte di quel filone anti usa anti occidente e tenete presente che il fatto quotidiano non è un giornale di chissà quale paese ma è un giornale italiano e poi andiamo a vedere andiamo a vedere altri giornali passiamo al messaggero porti chiusi alle navi russe il divieto in vigore da oggi anche per chi ha cambiato bandiera dopo il 24 di febbraio si ferma l'import di legno carta e pesce deroghe per chi trasporta grano e farmaci il piano di zeleschi per evacuare i soldati sotto assedio piogge di bombe su chiev salviamo gli eroi di mariupol dove c'è presente la 36esima brigata dei marines ucraini e anche il battaglione azov e poi vediamo andiamo a vedere andiamo a vedere l'avvenire se lo troviamo ma il mattino ci racconta soldati inglesi in ucraina in campo le forze speciali per addestrare la resistenza in mosca mette johnson al bando vendetta di putin per la nave affondata missili su chiev l'obiettivo è il bunker di zeleschi grazie a tutti e buon proseguimento di giornata